Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Senti un po', allora, dobbiamo parlare un attimo, io e te. Chuck, vieni qua, vieni. Chuck, tu sei stato bravo, invece, te Chuck, ti sei mangiato tutto il sugo delle frittuccine di torpreddelle. se hai riuscito a togliere il doppio piatto come hai fatto non lo so quindi quando cucinate qualche cosa dovete nasconderlo quindi ho dovuto rifare l'impasto adesso è nascosto nello scolo piatti perché fra poco mi farò le fettuccine a cinghiale che l'amico ci ha portato questa quindi Chuck se l'è mangiato speriamo che non gli succeda niente perché è un po' piccante vabbè che cosa vuoi raccontare? la prossima volta sarò più bravo mi fai? io spero ti posso anche perdonare perché sei il più piccolo poi c'è tuo fratello che proprio esagera sempre io no io sono più bravo di lui ok è stato un piacere e ci vediamo alla prossima puntata questa è la vita dei due gatti romani a Emma